Francesco Cicco De Marchi, anzitutto bentornato a Padova dopo un po' di avventure all'estero anche. Anzitutto, cosa hai provato nel ritornare a Padova dopo tanto tempo? Sicuramente tanta emozione perché comunque io qua mi sento a casa anche se sono da tanti anni che sono fuori. Quindi è sempre bello tornare qua, è sempre bello, proprio si respira un'aria buona, mi piace, mi piace molto, quindi sono contento. Guardando la partita di oggi, Sora soprattutto nel terzo set sembrava proprio con anche il tuo ingresso che stesse recuperando. Poi cos'è che è successo? Ah niente, commettiamo sempre i soliti errori, mai compreso, continuiamo a lavorare questa settimana per la prossima di domenica. Cosa servirà a Sora per poter riaprire la serie? Rimanere, io penso, concentrati, cercare di limitare i soliti errori che facciamo, io penso questo, quindi lavoreremo sicuramente su questa cosa. Grazie Bocca al Lupo. Ciao, grazie a voi. Grazie a voi.